buongiorno a tutti buongiorno amici sono mauro con la panchina quello della nuova panchina 9 sto scherzando benvenuti nel nostro consueto appuntamento del podcast nei due formati come dico sempre solo audio chi lo ascolta sul canale telegram gli orti podcast si chiama il canale oppure anche nel formato audio e video sul canale di maur trotelli che sono io il sottoscritto cosa vi devo raccontare tra quando un microfono cosa vi devo raccontare è una settimana particolare perché ho fatto tanto ho fatto tante niente non sono cose che apparentemente sembrano fatte per niente mentre invece ho fatto molti lavori insomma alla fine tra cui questo dove mi vedete seduto questi qui sono solo in forma provvisoria poi vi faccio vedere sganciando la telecamera vi faccio vedere perché l'ho messo in questo punto ho fatto tanti mestieri tra cui una parte ancora dalla pulizia qua sotto sto avanzando con il discorso dei rovi quindi la rivetta qui al di sotto dell'orto dove mi trovo io in questo momento per chi non può vederci o chi non sta guardando il video mi trovo sopra tra i due orti quello che vedete alle mie spalle è la nuova configurazione dell'orto che era stato il primo che avevo fatto d'ora in avanti finirò anche le coperture degli altri cassoni quindi per il momento sono due lunghi due corti quindi saranno quattro cassoncini da delle misure standard più proprio tra i 40 per 90 e poi due sono 180 per 80 fatti con quello che avevo un quello che disponevo in base anche allo spazio che dovevo impiegare quindi trincia ho trinciato parecchio non ho avuto particolari problemi che non che ho finito la benzina poi sono dovuto andare in paese a prendere ho fatto una camminata ho conosciuto delle persone tra queste persone una signora già anzianota che mi diceva che lei veniva da bambina in questa cascina a prendere il latte quindi veniva a prendere il latte quando erano ragazzini scendevano dalla mulattiera appunto perché questo signore il primo proprietario di questa cascina aveva le mucche aveva il latte e quindi aveva il suo orto che probabilmente era proprio qui dove ci troviamo adesso questo che vedete chi può vederlo appunto come sempre alle mie spa al mio al mio sinistro appunto la mia sinistra quindi a destra rispetto alla vostra inquadratura è una nuova io alla che sto facendo in cui metterò probabilmente solo fiori perché io adoro i fiori mi piacciono molto i fiori e andremo ad integrare qui nell'orto fiori e orticole per cui ortaggi quello che sarà da fare si farà non vedo l'ora che io possa livellarli sistemarli il compost è arrivato oggi quindi oggi in data con cui sto registrando questo video è sabato pomeriggio verso sera ho una torta nel forno che adesso devo andare a vedere che non voglio bruciarla però lasciato il forno basso 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 giusto che mi cuoce molto lentamente quindi ho fatto delle grandi pulizie come potete vedere se si nota dall'inquadratura non lo so ma lo guardiamo dopo quando vi sgancio la fotocamera ho pulito tutto il tetto col soffiatore è arrivato il soffiatore di un ragazzo che me l'ha donato mi aveva scritto che voleva regalarmi il soffiatore abbiamo concordato insieme che a me serviva quello molto maleggevole a batteria della parkside perché io ho già quelle batterie le carico già col mio sistema di carica solare per cui poi molto pratico per salire sul tetto non volevo una cosa impegnativa lui ha detto che non c'era assolutamente nessun problema me l'ha spedito mi è arrivato quindi grazie a tre quattro nomi per cui non so come chiamarti adriano mi sembra perché aveva dei nomi diversi sulla mail un nome sull'account un altro va bene ma si fa così normalmente perché quando uno registra poi magari lì al momento di scoccia dare i dati personali e magari si riguarda un po e lo condivido io invece ci ho messo la faccia ci ho messo nome e cognome e la mia figura quindi sono tranquillo per quello perché effettivamente quello che voglio mandare un messaggio pulito un messaggio così mi racconto quello che faccio chi sono e perché ha deciso di fare questa vita perché ha deciso di fare queste cose quindi tante pulizie ieri ho fatto per esempio venerdì quindi un po sono sceso finito fu un tutto l'ingresso poi ha cominciato a rastrellare tutta la mulatiera sono arrivato giù fino in fondo al ponte perché mi dava veramente fastidio vedere tutte queste foglie era tutto sporco per cui non ho fatto delle gran pulizie dietro la cascina sul tetto ho fatto un altro lavoro questo questo lavoro quando mi trovo adesso è un'area che vedrete poi sviluppata nei prossimi video nei prossimi quando inizierò a farla per il momento non è in programma perché dopo precedenza l'orto però qui si farà un lavoro che poi vi spiego dopo perché non voglio dire diciamo che è un'area io la chiamo area relax ed è la ragione per cui adesso si scopre avevo lasciato i due sambuchi quindi faranno la loro chioma faranno una zona d'ombra non ci attacco l'amaca è da via lì perché troppo breve però sto già studiando dove trovare un paio di piante per attaccare anche un'amaca e farmi i miei sognellini pomeridiani i cani hanno appena litigato non so perché avevano qualcosa da condividere nella ciotola finché si sono attaccati uno con l'altro vabbè se rimango io non succede niente come mi allontano è uno deve prevaricare sull'altro quello che gli devo insegnare è a non farlo le zampate nel primo cassone chiuso non ci sono più neanche del gatto quindi quello che apparentemente poteva sembrare un problema che avevo ripetuto più volte durante l'esecuzione dei miei video sul canale principale quindi quello di mauro degli orti di mauro era un problema che era temporaneo io sapevo già che in qualche modo cambiavo l'approccio cambiavo il punto di vista cambiavo il modo per risolverlo mi rimarrà qui dove in questo momento quello che ho davanti perché non lo recinto non faccio delle cose però piano piano mi veniterò qualcosa anche per qua ci vuole tempo ci vuole pazienza per queste cose io ce l'ho il tempo cielo pazienza volte un po meno dipende poi da come mi gira però effettivamente ultimamente sono piuttosto tranquillo mi guardo in giro se chi mi sta guardando perché voglio capire dove sono i cani e non li ho visti poi guardo la zona di là per quello che ci tenevo poi farvi vedere il perché nasce questa posizione nasce per una ragione ben precisa nasce perché effettivamente e poi da qua ho una prospettiva più alta rispetto al sotto dove c'è la panchina va benissimo anche a zona panchina col suo cuore davanti verranno poi messi a dimora dei fiori così come lo farò qui qui probabilmente appena li metto dimora dovrò farmi dei ritagli di rete vecchia che ho in giro e mettere le protezioni perché effettivamente per tutto il tempo che poi questi fiori richiederanno di uscire dal terreno appunto c'è sempre il problema del gatto perché per lui è un cesso dappertutto per cui diciamo che fondamentalmente il dato ce l'ho l'ho cercato io l'ho voluto io lui fa caccia è sempre in giro libero libero come il vento però ecco effettivamente devo comunque prendere questi provvedimenti perché non voglio trovarmi di sotterrati tutti i bulbi sono riuscito a comprare appunto un altro camion di compost che mi è arrivato questo oggi pomeriggio per me quindi sabato e da lunedì inizio a portarlo su con la motocariola ho già il carburante che mi servirà per fortuna per fare diversi viaggi perché ne andranno circa 10 12 viaggi come la volta scorsa scendere e salire scendere e salire e in settimana quella prossima presumo di riuscire a finire tutti quei rovi perché è l'unico punto dove posso poi trinciarli è il punto dove avevo fatto le patate lo scorso anno quest'anno vi anticipo le patate le farò in formato standard quindi freso il terreno e non c'è no dig per le patate non ho ancora strutturato le aree destinate le patate perché mi richiederebbero troppo spazio che io poi vado a perdere su altre culture che per me sono molti più importanti in questo momento quindi patata si farà e in formato standard con la lavorazione del terreno così che io rimuovendo andrò a rastrellare vedere a togliere anche parecchie di quelle radici che trovo tra cui anche tanti rovi ci sarà la ripresa dei rovi sono positivo perché sta spuntando anche tanta erba quindi vi assicuro che è piacevole allora io finirei così con una parte che vi ho raccontato pulizie 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 adesso ho finito anche la camera oggi ho cambiato il letto ho fatto le mie cose la camera mi piace averla ordinata nel fine settimana app scaldavagno non è pronta ma tra poco mi accingo anche a fare una bella doccia magari la faccio anche fresca tanto ormai mi rinnovo mi sento più più tonificato mi tonifica la pelle l'acqua fresca no non la faccio fredda sto scherzando facciamo così per salutarci ci salutiamo al di dietro della telecamera quindi adesso ve la sgancio e vi faccio vedere qual è la mia prospettiva da questo punto nel frattempo saluto tutti quelli che invece hanno fatto la visione del video in formato solo audio attenzione allo scorsone ecco abbassiamo lo zoom io stavo seduto qua questa è quella che è la juola che vi parlavo che è tutta lunga fino in fondo la diventerà tutta piantumata a ortaggi e fiori e questa mia prospettiva da qua vedete lì c'è il cuore c'è tutto vedete il tetto che ho pulito finirò anche quello della baracca di lamiera lo faccio in settimana prossima poi quell'acero maestoso diventerà fantastico quando fa tutto il verde mi chiude un po dentro ma me non dispiace essere circondato dal delle mie piante guardate da qua invece finirò poi di raccogliere tutta quella legna che mi sto e quella la parte è stata sboscata vedete quanto sono andato avanti mi manca quell'area qua di rovi e fine va bene allora io adesso vi saluto anche quelli che hanno continuato a vedere il formato audio il video qui perché io per l'audio l'ultima parte se non la vedi non puoi capirla i pannelli funzionano benissimo questa dove ci troviamo adesso chiamiamo la area relax poi capirete più avanti come ho deciso di strutturarla e cosa verrà fuori da questo posto vi lascio con questo con questo dubbio promessa che prima o poi si vedrà ciao a tutti e buona settimana e buon tutto quello che vi fa star bene come dico sempre la vita in cascina continua